aria bella a tutti ragazzi ed eccoci in un nuovissimo episodio di sinson 2 ragazzi allora c'è solo un piccolo problemino ecco ora appena riempito allora io stavo registrando ho fatto un video di 20 minuti e non ha registrato quando sono andata a vedere poi lì ho notato che non ha registrato e ci sono rimasto davvero di cacca veramente ha registrato l'audio vabbè lasciamo stare raga niente io quindi sono andato un po' avanti noi ci eravamo lasciati dentro con la casetta io sono uscito siamo andati a prendere le medicine eh sì siamo andati a prendere le medicine vabbè delle medicine poi vi spiego per cucirci il braccio sì in poche parole e niente io come avete potuto vedere scaricandomi la traduzione in italiano ho capito che se domani c'è il bocbaro mi devo tagliare il braccio questo qua vogliono dire quindi niente solo che secondo me non ce lo tagliano perché cioè se domani ci devo niente ecco io niente stavo in questa casa quindi ora dovrei scendere su su sì insomma non ok eccomi eh ora ci sono io perché era non guardare ok un attimo raga rieccomi già per una volta scappa 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 dall'altra parte non fa niente come fa niente dove vai io che ti fa tutto il cielo della casa chi ti verrà di qua vai veloce dove vai non mi non ti hai toccato la casa non so e perché non ti muoio allora dentro la casa cioè no vabbè hai capito vai non mi fa andare vai sempre dritto allora vai vai gira resta la casa non ti muoio ecco eccola eccola dietro vai entro entro it's pretty safe in there guardalo abbastanza sicuro it'll be a good place it'll be a good place to stitch up my arm ok sì ora baci it's pretty safe in there it'll be a good place to stitch up my arm va be a good place to stitch up my arm va be e prova che la foto principale è là ma qua c'è buco ma ci osserva prova da andare in fronte vai 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 dietro vai dietro vai dietro devo entrare non ti fai ad entrare ma non è possibile eh scusate se non sappiamo entrata cioè prima è uscita e ora non vuole entrare provano ad andarci proprio dentro tutto c'è una bomba ok bugia non è questo che è vabbè ci siamo scordati le bende ora io ricordando un po' il dietro le bende in modo non ci posso credere raga quindi le prendo ci ritroviamo via eccoci un attimo che mi mi metto che caccio fatto venga eccoci ci siamo guardate le bende ci sono voi che stiamo in casa quindi un attimo ok eccoci vai è proprio ora dopo ci prendiamo e ci ripetiamo le pressioni dopo allora ma dai clan clan dai che sei forte dai clan però dobbiamo essere molto veloci io so quello spagnolo so di averla in casa di 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 ispezioniamo tutto 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 su su dai nei cassonetti dappertutto dobbiamo vedere allora vai andiamo su andiamo su vai su gira no chi sa che mi si ricordate dove sta anche io anche io si 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 ma ormai gioco che ci senti da qui della gioco vai troppo bene ok vai ecco io qui non sono andata infatti mi ricordate non è qui ecco ma che c'è a me non mi ricordo questo ah si là dentro che cos'è vai 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 spingi bende ripostano le bende anche la rosa non esattamente bandage ma non esattamente che potrebbe aiutare la bende va bene ok dai fa niente l'orologio fattaci l'orologio io voglio l'orologio io voglio l'orologio ritorna al capanno allora raga l'ho stupato vai ritorna al capanno prenditi l'orologio no perché non ti prendi l'orologio no ok però non ti prendi oh mio dio mio dio no ma vai ok allora raga mi sto ficcando sotto se muovete qualcuno ci spara il gapa no no sto sentendo oh mi vado a faccia oh mio dio mio dio muoviti adesso ma perché per ho fatto il suo stacassino non lo so non lo so c'è Clem è meno eccitata di lei io lo sto giocando ma lei no lei si fa coraggio ma vattene ma scappati scappa Clem che cazzo deve stare in uno stagino perché si mettono l'acqua no ok rialtci 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 su duriamoci il culo il culo no volevo dire il braccio poi ci ricacchiamo nel prossimo episodio che bella con i fiorellini cioè lui usa una cosa per la pesca cioè lei si deve uccidere raga ma non può mettere una cosa fra le venti questo va a sbagliare ti ricordi com'è si vai cuci insieme mettiamo si cominciamo mettendo le bende poi mettiamo la cosa lì e poi ci cuciamo un'idea geniale prima le bende si poi è difficile mettere questo nell'anno è la cosa più difficile che ho visto oh mi ha piaciuto il culo ma come cazzo fa è 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 forza 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 qua ci vuole mia madre che è una dottoressa la laia perché ogni ogni acqua ha una tragedia laia 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 ah se io sono a vedere le parole cioè sono a vedere c'è il tempo di storia ma non è che io li devo mettere cioè da questa parte perché mi ha messo la pezza in casa no ma se io le vedo mi fanno una lì una cosa l'ha pure sbagliata basta, basta, ora plemmora, basta plemmora punti perfetti, possiamo dire c'è un muro diseguata cavolo c'è un casino muro diseguata ora e l'ha così no, io quando mi sono fatto male me lo sono messo a gridare non porto il lavoro plemmora ecco qui mi ricordo di questa cosa ok, 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 ok sto benissimo benissimo, sei plemmora assolutamente davvero bello guardi, si guarda oh mio dio c'è un euro ma bello, ti coglioni clemmo, le ha sprecato le ha sprecato tutte la medicina la medicina la medicina la medicina oh mio dio, oh mio dio no clemmo le ha sprecato No, không biết đâu, không biết đâu. C'è finito un pirla! Come lo uccidevo? Raga, sono morto! Sono morta! Più che altro! Vabbè, Clem è morta, tu sei morto! Perché non ti ammazzano! Meglio se provoci tu! No, vabbè, non ti ammazzano! Devi farli trovare morto! Calciami! 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 La faccia! Calciami! Calciami! Calca! 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 il martello stava dove cazzo lo vedi il martello? no sul tavolo se devi girare devi prendere il martello no di nuovo raga io sto per il video fino a qui ok ragazzi eccoci qui holy shit what the how the hell did he get in here? little girl is tough as nails are you alright? this shed should have been safe can i please? come inside now please you patched yourself up? where'd you get that stuff? did she steal from us? this doesn't change a thing she hasn't done anything to us says the man not carrying a baby i did i took stuff and i'm sorry i really am and you think you can trust her god damn it don't even start any of you would have done the same if you were half as tough as this little girl so just save it bring her in and i'll take a look at her arm ok damn look they're sneaking around at here we better get inside you hungry? you hungry? oh raga no io direi di fermarci qui e ci becchiamo nel prossimo episodio bene a tutti raga